Per recuperare lo username chiocciolaaruba.it, accedere all'indirizzo gestioneaccessi.aruba.it. Dal menu a tendina indicato, selezionare la voce login chiocciolaaruba.it. Cliccare sul pulsante indicato. Compilare il form visualizzato con almeno uno dei tre dati richiesti, tra codice fiscale, partita IVA o e-mail. Per continuare, digitare il codice monouso che si visualizza nella figura sottostante. Cliccare su Prosegui. Si accede alla pagina Recupera la login, da cui scegliere l'opzione indicata. Se in fase di registrazione su Aruba è stato indicato un numero di cellulare, questo verrà in parte visualizzato nella schermata. Cliccare su Prosegui. Si riceverà via SMS il codice monouso. Nel campo indicato, inserire il codice ricevuto tramite SMS e cliccare su Prosegui. Nei campi appositi, confermare o modificare la propria e-mail ed eventualmente il numero di cellulare da utilizzare come riferimento. Cliccare su Conferma. La procedura è completata. Si riceve una e-mail contenente lo username Aruba.